Noi abbiamo un territorio oramai fuori uso dal punto di vista della viabilità e anche dell'edizia scolastica e per questo noi diamo ormai l'ultimatum ai parlamentari convocati per la provincia di Pescara ai quali daremo un documento condiviso con l'UPI nazionale dove chiediamo loro di attivare ogni utile sinergia in Parlamento affinché determinate risorse siano stanziate per le province e quindi ne beneficerà anche evidentemente la provincia di Pescara. I report che io ho fatto predisporre in questi 24 mesi sono stati crescenti in termini di risorse necessarie. Questi dati di questa mattina riferiscono esattamente la situazione in seguito al maltempo e si parla di 30 milioni di euro per i danni alla viabilità provinciale e si parla di circa 6 milioni di euro di danni per l'edizia scolastica. Quindi è fuori dubbio che se queste risorse arrivano noi ci mettiamo al lavoro e già nei prossimi mesi avremo la possibilità di rifunzionalizzare la viabilità provinciale disconnessa e mettere al sicuro alcuni edifici scolastici. Diversamente io mi vedrò costretto a attivare le procedure per interrompere l'uso di tratti di strada provinciale e la fruibilità di alcuni beni scolastici. Non escludo se il governo non dovesse prendere atto di questa nostra richiesta noi saremo costretti, lo stiamo facendo ogni presidente di provincia in Italia, a presentare una denuncia cautelativa nei confronti del governo che deposieremo in ogni procura della Repubblica d'Italia per definire appunto il livello di criticità soprattutto di fronte al quale ci troviamo.